E' il frito pastore, e quando aveva una vita tranquilla, il padrone teneva una figlia, e il soldato si innamorava. Il soldato più forte le dice, un'Italia mi trovo sposato, ho tre figlie ma poi richiamato, non sperare l'amore da me. Si sconviglia quella russia famiglia, la ragazza d'amore impazziva, tutto odio, la vita tranquilla, non potendo fuggire di là. Si trattava del suo tradimento, l'ammazzare il soldato pastore, la ragazza l'aveva nel cuore, e soffrendo lo vuole salvare. Una notte di sabato sera, gli allarbando la santa giornata, la ragazza con cuore accettata, lo sveglia e gli disse così, scappa presto soldato pastore, non tremare, non essere vile, ti consegno domente e fuggile, i tuoi bimbi tu cuore abbraccià, ci accompagna e ci impara la via, lo bacia quella santa russia, e ritorna la sua cascina, e piangendo si ha messo a pregare. Il soldato con cuore tremante, bassa boschi, deserti e montagne, finalmente raggiunge i compagni, con nemico si messe a lottare. Finalmente raggiunge i compagni, con nemico si messe a lottare.